Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ancora al centro del gossip dopo il grande fratello VIP, dove si sono conosciuti e innamorati. Sui social network sta facendo discutere parecchio un gesto dell'opinionista di forum nei confronti della sua fidanzata. L'ex spadista si è presentata ad un evento con un top troppo scollato e davanti ai fotografi Donnamaria ha provato più volte a tirarglielo su, un gesto che ha scatenato i follower della Fiordelisi. Imposa per le foto Donnamaria, che aveva il braccio attorno alle spalle di Antonella, ha alzato il top della 25enne mentre lei ha tentato inutilmente di abbassarlo, per mettere in mostra la scollatura. Al suo posto le avrei letteralmente uscite, ha scritto qualcuno sui social network. Antonella, ribellati, è l'invito di parecchi sostenitori della coppia Donnalisi. Molti si sono uniti al coro del cancelletto Freeboobs. Nessun commento a riguardo è arrivato da parte dei diretti interessati.